Ha superato i 2 milioni di pagine, con oltre 100 testate locali presenti, l'archivio digitale www.giornalidelpiemonte.it, progetto realizzato dal Consiglio regionale e Regione Piemonte, che contiene quasi tutti i periodici locali pubblicati dal 1846 sino ad oggi, gratuitamente e liberamente su piattaforma online. Un archivio vivo che viene aggiornato ogni giorno, messo a disposizione di cittadini, ricercatori, insegnanti, studenti, giornalisti.